Si terrà il 6 maggio prossimo il processo immediato per i 13 maggiorenni, 10 dei quali furono arrestati il 12 novembre del 2019 con 8 minorenni accusati di estorsione, furto, rapina e atti persecutori contro un 61enne di Sava affetto da disagi psichici. La decisione è stata assunta dal giudice Benedetto Ruberto su proposta del sostituto procuratore Francesco Ciardo. L'operazione fu denominata Bad Boys e aveva permesso di apprendere che il pensionato era finito nel mirino di più gruppi di giovani che gli estorcevano piccole somme di denaro ogni giorno, circa 5-20 euro. Dietro la minaccia di dare alle fiamme la sua abitazione o il suo furgoncino, terribili le analogie con il caso Stano della vicina Manduria, lì il pensionato Cosimo Antonio morì dopo le angherie da parte di una analoga baby gang.